Alla prossima squadra, quella della Polonia. Come abbiamo detto, 16 anni d'età media, la Polonia si presenta in competizione al 17esimo posto con un totale di 17,35. La Polonia si presenta in competizione al 17. La Polonia si presenta in competizione al 17. La Polonia si presenta in competizione al 17. E qui una delle ragazze polacche ha perso la clavetta che è uscita dal praticabile. Peccato che questo errore si sia effettuato al termine dell'esercizio e dal resto ben riuscito.